Ciao ragazzi, come state? Allora, questo è un po' un ciladello, mi piace, molto divertente, io so che boccina che mi manda, aiuto, aiuto, ciao mamma, vi vedo i new story, perché sono dei grandi, proprio grandi. Ciao Sari, ciao Sari, come stai Sari, ciao, ciao mamma, ok ciao ciao.